Mentre Andrea viene definita come povera di attrattive turistiche, ma molto vivace e piacevole da percorrere, soprattutto nel centro storico, per la città di Barletta vi è una sostanziale bocciatura. Quando nel Medioevo sorsero il centro storico, la cattedrale e il castello Barletta doveva essere una bella città. Oggi, benché abbia notevoli attrattive, questo non si può più dire, è il laconico giudizio della guida Lonely Planet, edizione speciale per We Are in Puglia, in pubblicazione dal 12 maggio scorso. È realizzata anche grazie ad un finanziamento di Puglia Promozione. L'immagine di Barletta non è esattamente delle migliori e senza alcun dubbio non è affatto veritiera, come si sono affrettati a ribadire sia il sindaco Pasquale Cascella che il consigliere regionale Ruggero Mennea, che ha chiesto anche alla regione Puglia di vigilare e non finanziare progetti che possano ledere l'immagine di territori. La guida, in realtà, per quel che concerne la provincia di Barletta-Andrea Trani, ha un occhio di riguardo per Trani, definita regale e per Biceglie, di cui si narra il passato millenario e non solo. Ma Lonely Planet boccia senza mezzi termini anche Margherita di Savoia, definendola non esattamente il posto più allegro dell'Adriatico dove trascorrere una giornata. Proprio per Margherita, particolare è anche la descrizione sui luoghi in cui per nottare. Nel caso vi facesse comodo trascorrere una notte in città, si legge nella guida, non perdete tempo a cercare una stanza nei bed and breakfast a esclusivo uso degli over 70 e le pensioni con i centrini della nonna. Bocciatura nella stessa sezione anche per Barletta, definita come non esattamente il posto dove vale la pena passare una notte, ma per chi proprio volesse, si legge ancora, nella guida o dovesse starci il centro storico pullula di bed and breakfast. Sono ampi invece i capitoli pieni di belle parole per Denitti se la disfida, oltre che per Castel del Monte, Minervino Murge ed anche per le saline margheritane, capitolo a sé stante come detto per Trani e Biceglie, ma anche per Andria con la storia complessa della definizione di città dell'olio, del confetto e della burrata. Al di là dei giudizi espressi dalla guida Lonely Planet, che ha già riscosso oltre 5.000 scaricamenti dal sito web nella sola prima giornata, sembra abbastanza stucchevole un patrocinio regionale per una pubblicazione che dovrebbe promuovere le bellezze regionali e che invece ha al suo interno diverse falle ed inutili polemiche. Polemiche che naturalmente non si placano, soprattutto nei territori più danneggiati dalla guida, che se fosse stata scevra di patrocini pubblici avrebbe potuto esprimere tutti i giudizi possibili.